Questa cosa non era ancora successa. Ovviamente con Pomettino oggi ci addentriamo in questa nuova avventura. Ovviamente stiamo parlando del nostro pacco da lunedì di Vinted. E questo pacco qua ha una storia particolare. Perché? Lo dico subito, è una parte 1. Questo lotto che ho trovato su Vinted, che mi è piaciuto incredibilmente tanto, l'ho dovuto, mettiamo così, dividere in due. Più o meno. Adesso vi spiego. Allora, essendo che sono 7 bambole, ho deciso di fare metà, metà, 4 bambole ora e 3 bambole la prossima volta. Perché sennò veniva incredibilmente complicato for me. E almeno così ci godiamo bambola per bambola, non tutto insieme. Io qua ora ne ho scelte 4, nel mini video ne ho fatte delle 4 e la prossima volta ovviamente ci saranno le altre 3. Io vi dico già subito, non ho fatto i compiti. Quindi non so assolutamente niente di queste donzelle. So solamente che c'è un po' da faticare. Però dopo che l'ho visto, dopo che ho visto il prezzo, dopo che ho visto tutto, ho detto, va bene, buttiamoci in questa avventura. Avevo detto che non volevo più faticare, però non ho resistito a questo lotto. E adesso ve lo faccio vedere anche a voi. Allora, mi raccomando, mettiamoci tutti comodi, prendiamo appunti, perché dobbiamo scoprire chi sono queste donzelle. Poi ovviamente farò anche io le mie ricerche, ma non le ho ancora fatte. Non chiedetemi perché, non lo so. Non è ancora fatta. Allora, prima di tutto facciamoci il momento copertina. Ok, tiriamo fuori tutte queste blondie, un po' così, inquietantissimo. Ok, con sotto dei rumoracci. E quindi adesso le pesco a caso, ok? E andiamo a capire che cosa dobbiamo fare, com'è, com'è non è e tutto. Partiamo dalla prima. Allora, abbiamo questa, sono tutte Barbie vintage, ok? Penso proprio che butto ciò tutto. Una alla volta, adesso ci mettiamo. Abbiamo questa bella bionda, con i capelli lunghi e un sacco di rumori di sottofondo. Allora, ha gli occhi incredibilmente azzurri. Poi nel mini video ovviamente si vede. E ha delle perle, delle perline, sia qui, e ha anche l'anello, ok? Incredibilmente c'è anche l'anello. Poi c'è la mutandina qua stampata bianca e c'è scritto Mattel 1966 Indonesia. Ok? La prima bambola da scoprire è questa. Devo dire che non sembra così, i capelli non mi sembrano così, eh, con lei... Ah, altra cosa che il trucco qua, l'ombretto, è tipo color cacarella, tipo color diarrea, marroncino. Quindi boh, molto molto carina, bellissima. Ok, questa veramente bella. Poi cosa che c'ha? Aspettate, c'ha un'altra particolarità che adesso ho visto. Ha un braccio dritto e un braccio da diva, ok? Che manda tutti a quel paese. E questa è la prima donzella dell'otto, ok? Speriamo di risolvere tutti i misteri. Prossima. Qua sono di più i baci. Ecco, questa io penso proprio che ha i capelli cotti. Quindi, ormai ho sentito, ormai con la mia experience, so che questi capelli sono cotti. Non ci sarà così tanto da fare. Vedo se tenerli giù legali o cosa, ma ormai ho capito che quando è così sono cotti. Non so cosa è successo a questa cosa, ma sono cotti. Allora, ed è anche molto 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 sozzerella. Questa è conciata un po' peggio con fronte all'altra. Che cosa ci racconta questa donzella? Questa donzella ha la particolarità di avere una collana oro con la conchiglia, ok? Poi non ha orecchini, però c'ha il buco e non ha anelli, non c'ha nemmeno il buco. C'è scritto Mattel 1966 Cina. È bionda, con i capelli un po' così. Ha gli occhi azzurri e gialli. E l'ombretto tipo azzurrino, lillino. Questa è la signorina di oggi, ok? Cioè la seconda signorina. Questa ci sarà molto 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 da lavorare. Ho cercato di dividere le donzelle un po'... Per non fare... Ok, e quindi siamo a queste due donzelline. Ho fatto vedere tutto di lei? Penso proprio di sì, i capelli. Qualcosa di orribile. Andiamo a pescare a tu. Qua ci sono sempre io. Allora, questa è tutta completamente articolata, ok? Abbiamo delle articolazioni, rumori molesti di sottofondo e piedi piatti. Poi ha orecchini, fucsia, belli a palon, ok? La frangia e i capelli che anche qui sono un po' caccosi. Quasi qualcuno penso che gli abbia fatto una treccia, non lo so. Abbiamo trucco, ombretto, lilla e occhi sempre così gialli e verdi, verdino. Non ho capito sta cosa, però non so nemmeno chi mette a fuoco. E dietro c'è scritto 1993 Mattel Cina. 1993, questa è più recente. Però è meravigliosa. Questi visi, queste barbie, mi piacciono così tanto. Che avete capito perché ho preso questo lotto. E io muovo. Posso farci vedere. E praticamente... Basta. Questa, secondo me, dovrebbe essere facile da capire chi è. Con tutte queste articolazioni qui. Boh. Non è zozza. A parte, vabbè, un po' di macchioline in face. I capelli, un punto di domanda. Ma a confronto a quelli di prima... Ah, guardate qua dentro, sono ancora belli morbidosi. Guardate. Che bello. Qua sono bellissimi i capelli. Ah, e sembrerebbe che avesse tipo un qualcosa qui. Ok? Scopriremo tutte queste. Io lo so che scopriremo tutte queste donzelle. Io lo so. E adesso dobbiamo passare all'ultima di questa prima parte. Uh, sono sempre qui. Vediamo cosa ci racconta questa Barbie. Allora, questa Barbie, diciamo subito, è 1966 C, ovviamente Mattela. Questi capelli così... Non so come raccontare questi capelli. Lasciate andare dove vogliono andare. E praticamente ha le braccia dritte. Non ha ombretto. E ha gli occhi azzurri. Questa, secondo me, è difficile da capire chi è. Non ha così tante particolarità. E' un po' anche zozzerella sul... Sulla face. Ok? Non lo so. Un po' smangiocchiata, ma ci sta. E quindi, questa... Secondo me questa è la più difficile. Volevo dire la prima che si indovina. Non lo so, questa mi... Penso... Cioè, questa è del... Del... 93? Questa c'è scritto se c'è? Pensavo fosse... Vabbè. E quindi abbiamo una donzella così. Che i capelli, devo dire, che secondo me... Non è che sono disastrati. In questa parte di lotto, quella che ha i capelli più 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 disastrati è questa signorina qua con chiglia oro. Non che le altre non mi facciano faticare, né? Però quella so già che sono cotti. E qua abbiamo queste quattro donzelline. Ok? Io... Questa ha nei capelli già di tutto. Porca miseria. Niente. Allora, io... Non so se devi il prezzo dell'otto adesso. O la prossima volta. Perché vi ho già detto che sono sette bambole. Non lo so. Non lo so. Però sapete che quando arriva Giassica c'è la convenienza. Anche se qui la convenienza... Sì, sì, sì. Vi lascio un po' nel dubbio. Anzi. Anzi. Visto che ci sarà la seconda parte. Abbiamo tutto il tempo. Che ci saranno ancora altri video. Altri tutto. Provate a indovinare. Ovviamente vedendo queste quattro. Che poi ne mancano ancora tre. Che sono un po' più... Provate a pensare quanto potrebbe essere venuto questo lotto. Ok? Proviamo a indovinare. Vediamo. E poi ve lo dirò quando sarà il momento. Mi piace così. Quindi io però sono molto soddisfatta. Sono molto soddisfatta. Non sono così soddisfatta di quello che dovrò andare a fare. Però per il momento non dico niente. Lo scopriremo quando lo scopriremo. E scopriremo anche che questa scatola la devo tenere da parte. Perché mi servirà anche per la prossima un momento copertina. Per la parte due. Ecco. Questa è la parte uno. Perfetto. Quindi fatemi sapere il cavolo che volete. Provate a indovinare il prezzo dell'otto. Immaginandovi anche quelle altre tre. Il cavolo che volete. Pomettine soddisfatto. Io sono molto soddisfatta. Il momento copertino è stato fatto. Quindi è il momento di salutar. E niente. Bim, bum, ba. Bim, bum, ba. Indoviniamo queste donzelline qua. Io è Pomettino. Vi ringraziamo di aver guardato il mio video. Vi mando un sacco di bacini. Ciao, ciao, ciao. Quanta fatica si farà. Quanta fatica si farà. Quanta fatica si farà. Quanta fatica si farà.